questi vanno a lavorare e andiamo fino adesso non mi ha dato risposta lo conosco bene l'ho portato a vedere una casa una volta volevo comprare una casa e l'ho portato a Rossino io chiamo lui l'ho portato là per vedere da preventivo quanto devo spendere dopo che ho preso quella non ho sentito niente da lui adesso l'ho avuto scordato non l'ho scordato l'ho chiamato tante volte sono venuto a bar e domani l'ho lasciato vedere ho chiamato un'altra persona che si chiama Severio ho fatto tutto Severio conosco tanta gente ha avuto fatto questa fabbrica l'ha costrutto l'ha costrutto lui quando fanno con il turbo gas ah ho capito poi c'aveva la patate Ruggero poi c'aveva i fiori la lattina ho venuto sempre nell'officina a riparare il camion il suo camion fuori fuori dai fuori dai ma guarda il gatto il mio il mio il mio il mio No, ma l'ai... Pisa!